eccoci di nuovo qui insieme oggi volevo rispondere ad una domanda che mi è stata fatta tante 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 volte pietro come si mettono le mani quando balliamo questo rivolto sia da parte di una dama sia da parte di un cavaliere allora diciamo che in linea di massima io ho sempre tenuto le mani in due posizioni differenti parliamo di mano sinistra per il cavaliere e mano sinistra per la dama la mano sinistra del cavaliere che alla fine diciamo è quella che controlla un po di più la situazione per quanto riguarda il tango o gli altri balli abbiamo delle distinzioni da fare diciamo che le mie due mani contengono la mia partner quindi ho il potenziale e l'energia della mia dama da controllare attraverso le mie braccia quindi per quanto riguarda balli veloci e potenti come il tango dovrò avere un controllo un po maggiore leggermente più evidenziato per quanto riguarda balli morbidi balli di swing valser inglese slow fox valser viennese e quick step avrò la mano leggermente più ammorbidita perché non devo controllare tanti scatti all'interno della mia posizione posso soffrire questa energia per farla uscire all'esterno allora prendiamo in esempio la mano sinistra del cavaliere tutte le volte che mi metto in posizione per quanto riguarda il tango adesso visto che la mia dama è qui in mezzo dovrò contenere tutti i movimenti e tutti i sudden movement tutti i movimenti di scatto che avrà la mia dama e avrò io di conseguenza quindi se questa mano è troppo aperta tutti i movimenti che andrò a fare la mia dama sarà molto facilitata ad uscire fuori dal mio controllo quindi tra il gomito il mio gomito destro e il mio polso sinistro vado a contenere la dama qui dentro quindi nella mia posizione di tango questo mano sarà leggermente più chiusa e il polso leggermente più alto del gomito quindi non completamente parallelo al pavimento leggermente sfalzato però questo polso chiuso per mantenere tutti gli scatti e tutto il movimento della dama all'interno da questa parte il gomito farà forza dall'altro lato quindi per andare a contenere diciamo il lo shakerare della mia dama all'interno di questa gabbia quindi questa mano chiusa verso il basso leggermente polso più alto del gomito qui per quanto riguarda valser inglese slow fox quick step e valser viennese questa mano guardate ho una riga la parte che inizia dal gomito e finisce sul polso vado a tenerla tranquillamente in questa posizione quindi dritta vado ad appoggiare la mia riga e vado a ruotare completamente il polso non vado ad effettuare questo non vado a fare questo non vado a fare questo non vado a fare questo no il polso il più neutro possibile ed il più naturale possibile perché perché la nostra energia mentre balliamo il nostro volume devono uscire verso l'alto devono essere presentati all'esterno se vado a mettere le mani così vado troppo ad aggrappare la mia dama invece io la devo sostenere per presentarla quindi questa mano andrà rilassata così chiudendo le dita e girando il polso in base allo stile che sto utilizzando per tenerlo il più naturale possibile perché è vero che questa mano va sempre a controllare la posizione e l'energia della dama ma non va a controllarla verso l'interno come il tango va a controllarla per utilizzarla verso l'esterno quindi questo braccio completamente rilassato così di conseguenza il braccio della dama andrà appoggiato qui dentro rilassato con il gomito rilassato verso il basso quello che non mi piace vedere quando le dame utilizzano questo gomito per stare tanto su cosa vuol dire questo che stando tanto su fanno tanta resistenza e tanta forza verso il cavaliere c'è una leggera pressione tra le due braccia per mantenere quel tono muscolare tra dama e cavaliere ma non deve andare a disturbare l'uno non deve andare a disturbare l'altro quindi cavaliere in questa posizione e visto che la dama è totalmente rivolta verso l'indietro in estensione le braccia vanno appoggiate al cavaliere quindi questo braccio andrà messo in questa posizione rilassato altrimenti vado a contrastare l'energia e di conseguenza la guida del mio cavaliere per quanto riguarda la mano destra del cavaliere tante volte ho visto e meno volte mi è stato chiesto dove va messa questa mano il mio maestro mi ha detto che deve andare oltre la spina dorsale il mio maestro mi ha detto che deve andare verso giù il mio maestro mi ha detto che deve andare verso su allora il libro dice che la nostra mano destra deve sorreggere la scapola la scapola è a questa altezza più o meno della dama quindi un maestro inglese una volta mi disse tieni presente la dama davanti a te ha il seno giusto io ho detto sì fai finta che con la mano vuoi reggere un seno dove trovi quel seno adesso fai girare la dama quindi dal toccare se la dama sta di spalle davanti a me io metto una mano per toccare il suo seno toccare non reggere stringere fare qualcosa solo toccare leggermente mettere la mano in corrispondenza di quella posizione come la dama si va a girare per andare di fronte a me quella è la posizione ideale per poggiare la mano poi dipende anche dalle misure antropometriche dell'uomo e della donna se il cavaliere richiede di avere la mano un po' più fuori richiede di avere la mano un po' più dentro richiede un po' più su un po' più giù ma in linea di massima la mano destra del cavaliere va a sorreggere la scapola sinistra della dama e visto che la dama è in questa posizione questa linea qui non va disturbata quindi il cavaliere con questa mano deve andare a seguire la linea dell'avambraccio sinistra della dama che parte dal gomito finisce all'interno della scapola non andando a disturbare questa linea altrimenti la dama ha questo problema così tutte le volte che vedete una dama con questa spalla sgorbia passatemi il termine è colpa del braccio destro del cavaliere quindi il cavaliere andrà a sorreggere la scapola supportare l'estensione della dama in questo modo giustamente dobbiamo fare un po' di attenzione perché la morfologia della nostra mano ha questa polpettina diciamo del pollice che va a disturbare l'armonia dell'avambraccio della donna quindi dobbiamo andare a mediare leggermente l'angolazione io ho sempre messo la mano così per non dar fastidio andavo a piegare il polso leggermente in questa posizione se vado a mettere troppo su questa polpetta andava a spingere la scapola della mia parte di conseguenza la mano della dama non va messa così per aggrappare non va messa così per spingere tante volte alcuni maestri hanno detto alla mia partner con questo dito stai dentro e spingi e io avevo dolore nel muscolo qui nell'incavo del mio muscolo avevo dolore perché la mia dama metteva troppa pressione per spingermi quindi stessa tecnica del braccio sinistro del cavaliere una volta che la dama è in questa posizione il braccio va adagiato sulla spalla scusate sull'avambraccio a destra del cavaliere creando leggerezza non creando pressione e aggrapparsi quindi braccia morbide il più naturale possibile e le braccia servono per contenere l'energia non per reggere l'energia o per sfruttare questa energia troppo le braccia servono solo per controllare e per rendere il volume della nostra coppia il più naturale e delicato possibile ciao ragazzi alla prossima